Ciao Grouponer, hai acquistato un'offerta multisessione che prevede più appuntamenti con un solo acquisto? Con il nuovo servizio di prenotazione online potrai tenere tutti i tuoi impegni sotto controllo. Dopo aver acquistato la tua offerta multisessione, clicca su Prenota ed entra nel tuo menu personale. Per prima cosa, controlla la scadenza del tuo coupon. Clicca sul pulsante Prenota il mio coupon. Seleziona la data e l'opzione desiderata e clicca sul pulsante Prossimo. Se lo desideri, compila l'eventuale nota per richieste particolari, lasciando il tuo numero di telefono e un commento. E clicca sul pulsante Prenota il mio coupon per prenotare un appuntamento. Adesso la tua prenotazione è confermata. Per procedere con un'altra prenotazione, clicca nuovamente sul pulsante Prenota il mio coupon ed esegui le stesse semplici operazioni. Inserendo la data e l'opzione che preferisci. Eventuali note E clicca di nuovo su Prenota. La tua seconda prenotazione è confermata e tutti i tuoi appuntamenti sono schedulati e riepilogati nel tuo menu personale. Adesso continua da solo e programma i tuoi appuntamenti con il risparmio.